Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Rosso, mi sono fatto un regalo. Allora, siamo in inverno, quindi tra un po' comincio la mia coltivazione in casa o in serra, ma visto che ho una stanza che non utilizzo, uso il mio appartamento per iniziare la germinazione dei semi. Avevo già delle lampade LED di cui vi ho parlato sia sul blog che su YouTube, vi lascio qui la descrizione, però quest'anno volevo qualcosa di un pochino più professionale e mi sono fatto un regalo, eccolo qua. Eccolo qua. Quest'anno ho esagerato. Allora, qui secondo il mio modesto parere siamo a cavallo, al limite proprio, tra una lampada hobbistica e semi professionale e adesso vi spiego il perché. La trovate su Amazon, costa circa 60 euro, ma troverete anche il link in descrizione per le specifiche tecniche e l'articolo sul blog, se vi va. Tra l'altro poi ho sentito il produttore e il rivenditore, le avrei detto che avrei fatto questa recensione, ci ha accordato un codice sconto, poi magari se vi interessa lo trovate qui nella descrizione e sul blog. Allora, torniamo un po' all'articolo, è qualcosa di interessante veramente, guardate, intanto facciamo una panoramica, ha alcune caratteristiche a mio avviso veramente interessanti, adesso ve lo mostro. Allora, 588 led, potenza 80 watt di assorbimento, quindi è abbastanza gestibile, non è pochissimo. Tenete conto, una lampada così in appartamento va acceso almeno 12-14 ore al giorno e va via un kilowatt in una giornata, insomma, non è proprio uno scherzo. Comunque, se vogliamo avere un po' di luce idonea a far germinare e crescere le nostre piantine, le altre che avevo io sono un pochino più piccole, hanno un raggio un pochino più ristretto, con questo riesco a fare qualcosa di diverso, insomma, è un'altra cosa. Allora, dicevo, 588 led, la particolarità è che comprende un po' tutti gli spettri di luce. Abbiamo il bianco, il blu, il rosso, l'infrarosso e l'ultravioletto. Abbiamo quindi 3000 kelvin per il bianco, l'infrarosso a 760 nanometri e l'ultravioletto a 395 nanometri. Quindi comprende un po' tutto, ha tutto lo spettro completo per far crescere la piantina dal seme al primo fiore. Altre caratteristiche tecniche, intanto è brutta la parola, dimmerabile, cioè si può regolare un attimino la potenza. Vedete, andiamo da off 20-40 fino al 100%. Con lo stesso pulsante possiamo eventualmente comandare altre 13 di queste collegate attraverso la spina. Se ne collega una attaccata all'altra e con un solo pulsante si comandano tutte. Quindi io farò così, quest'anno vedo come mi trovo con questa qui. Se mi trovo bene, l'anno prossimo ne prenderò un'altra o altre due. Ventola di raffreddamento, sembra una sciocchezza ma i led comunque scaldano ed è giusto avere una ventola di raffreddamento. Questo connettore per l'accensione, l'accendiamo dopo. Quattro gancetti perché bisogna appenderlo e se mi chiedete già qual'altezza va rispetto alle piantine, vi dico subito che in fase di semina lui riesce a soddisfare una superficie di 90x90, mentre in fase di fioritura 60x60. Quindi la si regola all'altezza per coprire 90x90 prima e 60x60 dopo. In dotazione ci sono le istruzioni, tra l'altro anche in italiano. La cosa che mi è piaciuta molto è il termometro con l'umidità. Adesso questa è una schermatina, io ho già aggiunto la batteria perché l'ho aperto prima, è una batteria normalissima, mini stilo. Volevo rimuovere la copertura. Ecco, in questo caso, in questo appartamento ho 18 gradi, 50% di umidità. Devo regolare l'orologio. Cavo di alimentazione, i quattro gancetti e poi per sollevarlo su e giù abbiamo una sorta di carrucola da agganciare a una trave, a un soffitto, a un'impalcatura che aggancia ai quattro ganci e poi premendo un tasto che è questo qui si rilascia o meno. E a clicchetto molto comodo. Allora, questa vuole essere soltanto una piccola presentazione. Adesso lo accendiamo, vediamo che luce fa. Ovviamente per il test sul campo dobbiamo rimandare un altro video perché devo ancora allestire la serra interna, quindi questo sarà un video molto breve. Allora, parte la ventola. Spero di non accecarvi. Guardate che siamo soltanto al 20%. Lo tengo un po' nascosto dalla camera perché se no... Ok. 40, 50, 60, 80, 100%. La ventola è silenziosa, molto silenziosa. È una ventola da PC di quelle silenziose sicuramente. Molto, molto luminoso. Voi adesso vedrete la rifrazione in camera e un effetto ottico della camera. Nel momento vedete... Ok, dai. Mark Agnello, vi trovate il link in descrizione. Come vi dicevo c'è il codice sconto se vi interessa. Il link è affiliato, quindi se volete acquistare tramite quel link aiutate il canale. Altrimenti lo comprate per conto vostro, va benissimo lo stesso. Ne parlerò meglio nelle prossime due o tre settimane che allestirò la prima serra di peperoni e peperoncini perché quelli ci vuole un po' più di tempo e più di temperatura per farli germinare. E cominciamo con un nuovo anno. Bene, per questo video è tutto. Spero che vi sia stato utile. È giusto capire che sul mercato vi sono anche lampade di una certa qualità con 50-60 euro. Se vi interessa potete andare a vedere su Amazon. Vi lascio anche il link del produttore così guardate direttamente le specifiche. Guardatevi anche l'approfondimento sul blog se vi interessa perché parlerò bene di tutte le frequenze luminose e a cosa servono. Qui sul video non sono riuscito ad approfondire. Vi invito a iscrivervi al canale. Lasciate un like se vi piace, se no andate in giù va bene lo stesso. Ci vediamo giovedì prossimo. Vi auguro una buona giornata.